Musica Bentrovati spettatori e spettatrici, nuova edizione del nostro Tg della Domenica. Durante l'udienza generale di questa settimana, Papa Francesco, a causa del perdurare del raffreddore, non ha letto il testo della Catechesi dedicata all'agire virtuoso. Al termine l'appello a perseverare nella preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Vediamo. Tu ti invito a proseguire con impegno nell'itinerario quaresimale, pronti a compiere gesti di cristiana solidarietà ovunque la provvidenza vi chiama ad operare. E per favore perseveriamo nella preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato morto nel frante. Lui pregava con quello. Tanti giovani, tanti giovani vanno a morire. Preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra, che sempre è una sconfitta. Gratuità significa dare senza aspettarsi qualcosa in cambio. Ne è convinto il Santo Padre che ha inviato un messaggio in occasione dell'incontro tra istituzioni e organismi di aiuto alla Chiesa in America Latina. Secondo il Pontefice, l'amore non può avere un'agenda. Sentiamo. La gratuità è dare senza aspettarsi nulla in cambio. Sono le parole di Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti all'incontro con le istituzioni e gli organismi di aiuto alla Chiesa in America Latina. Per il Santo Padre tutto ciò che abbiamo o è di Dio o è prova e pegno del suo amore e perciò se perdiamo questa consapevolezza nel dare e anche nel ricevere snaturiamo la sua essenza e la nostra. In questo modo, precisa Bergoglio, diventiamo schiavi del denaro e soggiogati dalla paura di non avere. Diamo il cuore al tesoro della falsa sicurezza economica, dell'efficienza amministrativa, del controllo di una vita senza sussulti. La soluzione dunque sta nel non evitare chi è cieco, chi resta a terra sul ciglio della strada che è coperto di lebra o di miseria. La gratuità, sostiene il Pontefice, è imitare il modo in cui Gesù si dona per noi, sempre e totalmente, nonostante la nostra povertà. E allora, se gratuità è amore, quest'ultimo non può avere un'agenda, ma secondo il Pontefice si incarna, diventa uno di noi per fare nuove tutte le cose. Abbracciare la croce non è segno di insuccesso, continua il Papa, non è un lavoro vano, è unirci alla missione di Gesù di portare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e toccare concretamente la ferita di quel fratello, di quella comunità, conclude, che ha un nome. Dopo le parole sull'Ucraina di Papa Francesco alla radio televisione svizzera, interviene sulla questione il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Il mondo rischia un'escalation nucleare, ha detto. Ascoltiamo. Per Papa Francesco negoziare non è debolezza, ma è forza, non è resa, ma è coraggio. E ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, per le centinaia di migliaia di vite umane che sono state sacrificate in una guerra nel cuore dell'Europa. Sono parole che valgono per tutti i conflitti che insanguinano il mondo. E' quanto afferma il Pontefice sull'Ucraina alla radio televisione svizzera. Interviene sulla questione il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Trattandosi di decisioni che dipendono dalla volontà umana, afferma il porporato, rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica. La guerra scatenata contro l'Ucraina non è l'effetto di una calamità naturale incontrollabile, ma della sola libertà umana. E' la stessa volontà umana che ha causato questa tragedia anche la possibilità e la responsabilità di intraprendere passi per mettervi fine e aprire la strada a una soluzione. La Santa Sede continua all'alto prelato e preoccupata per il rischio di un allargamento della guerra. L'innalzamento del livello del conflitto, l'esplodere di nuovi scontri armati, la corsa al riarmo sono segnali drammatici e inquietanti in questo senso. L'allargamento della guerra significa nuove sofferenze, nuovi lutti, nuove vittime, nuove distruzioni che si aggiungono a quelli che il popolo ucraino, soprattutto bambini, donne, anziani e civili, vive nella propria carne, pagando il prezzo troppo caro di questa guerra ingiusta. E il rischio di una fatale deriva nucleare, conclude Parolin, non è assente. La piaga dell'usura è in aumento e sono ancora poche le denunce. Quanto emerge dal bilancio della Fondazione Anti-usura San Nicola e Santi Medici di Bari? Ascoltiamo. I dati sono in aumento e sono ancora poche le vittime che abbiano accettato il Consiglio di denunciare gli usurai. E' quanto emerge dal bilancio dell'anno 2023 effettuato dalla Fondazione Anti-usura San Nicola e Santi Medici di Bari, presieduta da Don Giuseppe Bozzi dal 1994 impegnato a contrastare questo fenomeno, mettendo a disposizione un pool di esperti avvocati capaci di ridare speranza a chi ne è colpito. La Fondazione si pone come baluardo per un'alternativa, per una richiesta di consulenza, perché possiamo illuminare anche dei percorsi di rientro in una situazione di sovraindibitamento, per una questione di chiarimento su come interpretare alcuni dati bancabili o bancari che non sono sempre perfettamente chiari o su condizioni che magari erano in tempo vantaggiose, oggi non sono più. Quindi devo dire che il bilancio dal punto di vista della Fondazione è un bilancio positivo perché abbiamo ascoltato tante persone e devo dire che grazie a Dio per la maggior parte dei casi li abbiamo anche sostenuti e aiutati. Sono stati pochissimi i casi in cui noi non abbiamo potuto fare nulla, ma per motivi che adesso non so qui a sottolineare, ma sempre abbiamo poi accompagnato queste persone anche a rivolgersi magari a denti che avrebbero potuto dare loro una mano in questo senso. Se da un lato c'è l'aiuto e la vicinanza, dall'altro c'è il fatto che c'è molta povertà culturale, c'è molta diffidenza nelle istituzioni, per cui la piaga dell'usura continua a serpeggiare in maniera fortemente dolorosa. Noi ci auguriamo che il lavoro del centro antiusura con le istituzioni possa migliorare sempre di più e possa trovare risposte univoche al disagio che stiamo assistendo, al disagio che stiamo accompagnando. Nei giorni scorsi si è conclusa nella parrocchia degli Angeli Custodi di San Pietro Vernotico la visita pastorale di Monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, un'occasione per vivere il piacere di far parte di una famiglia allargata, ha detto. Sentiamo. E' questa vicinanza alla gente che è il segno della visita pastorale, è chiaro e sia prechiaro in modo solenne che la messa è il punto centrale, ma accanto al mistero divino c'è il mistero umano. Il mistero divino rimane sull'altare ed è affidato alla nostra fede. Quell'umano rimane tra noi ed è affidato alla nostra responsabilità per saper sempre tendere la mano, sia quando abbiamo torto, sia quando abbiamo ragione. Quando abbiamo torto per chiedere scusa, quando abbiamo ragione per compitare andare a prendere il caffè sempre con gli amici, anche se l'amico che ci invita magari ci va un po' di traverso, ma sarebbe l'occasione migliore. Quando il vescovo visita una parrocchia e si vede accerchiato, circondato, accolto da una comunità viva, vivace, che non sta lì ad aspettare che finisce la messa per andarsene, ma per continuare a dialogare, per fare due chiacchiere insieme, come faccio spesso, giro i negozi anche delle parrocchie dove vado, porto la comunione agli ammalati, perché questo è il senso della vista pastorale. Cioè il vescovo non viene a fare, scusate le battute in livello imposto in barrocchio. Il vescovo è pastore e deve vivere il suo essere pastore nella concretezza delle relazioni. Questo è la Chiesa che noi dobbiamo formare insieme. Il vescovo da solo non fa niente. Voi da soli mancate del successore di Pietro. Insieme nel dialogo andiamo avanti e saremo tutti felici e orgogliosi, umilmente orgogliosi, ecco il paradosso reale, del vivere in una comunità ecclesiale, in una diocesi dove veramente respiriamo tutti quest'aria. Chi sta ascoltando non dovesse respirarle. Ho dato anche il mio numero di cellulare, venitemi a trovare che ne parliamo. Nell'ottavo anniversario della sua ordinazione episcopale, Monsignor Luigi Manzi ha presieduto la celebrazione eucaristica nel santuario dedicato al Santissimo Salvatore ad Andria. Ascoltiamo un breve stralcio della sua omelia. Il segno dell'acqua torna spesso nel lezionario della Quaresima. È il segno elementare, il primo elemento che ci fa pensare al bisogno di vita che tutti abbiamo. Dicono gli studiosi che senza mangiare si può stare un po' di tempo, ma senza bere no. L'acqua è troppo necessaria, è essenziale per la vita. Ed ecco dunque che l'acqua è un segno molto presente nel lezionario quaresimale che ci porta verso la Pasqua. E ritroveremo questo segno poi nella veglia pasquale, quando sarà benedetta la nuova acqua con cui si celebra il Battesimo. Gesù ne ha fatti tanti disegni di miracoli. E sempre i miracoli non sono soltanto sfoggio di potenza, di bravura, che attira attenzione e applausi dalla gente. I miracoli sono segno di ciò che è l'azione di Gesù. Gesù non ha guarito tutti i paralitici del suo tempo, però in alcuni casi lui ha operato e attraverso queste guarigioni ha lanciato a noi che leggiamo questi fatti a duemila anni di distanza ha lanciato messaggi preziosi. La quaresima ormai avanza, pochi giorni mancano alla settimana santa e ai giorni della Pasqua. E allora torna ancora di più forte, insistente, incoraggiante questa parola, questo invito di Gesù. alzati. Lo diceva quel paralitico, lo dice a ciascuno di noi, alzati. E non trovare scuse nel fatto che non c'è nessuno che ti aiuta, dipende innanzitutto da te, che vuoi fare della tua vita. Alzati. Lo devi volere, lo devi desiderare. Se tu lo vuoi, se tu lo desideri, vedrai che ce la farai, perché poi a quello che è un nostro desiderio, un nostro sogno, si aggiunge certamente la grazia del buon Dio. In occasione del 448esimo anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine della Vergine dei Miracoli, Andrea ha accolto il Cardinale Prefetto del Di Castero per i Vescovi. Sentiamo. Questa festa è un'opportunità molto bella per ascoltare la parola di Maria che ci dice ascoltate il mio figlio. Io penso che il messaggio del Vangelo, che è un messaggio di pace e di riconciliazione. È ancora di più in questo tempo della Quaresima e dobbiamo veramente ascoltare la parola, cercare la pace e cercare di essere promotori di pace nel mondo. E' una bellissima opportunità per riconoscere che tutti noi che siamo peccatori siamo chiamati a tornare a Dio, a vivere un tempo di conversione per forse proprio girare, per dire, la direzione della nostra vita, andare verso Dio e cercare come vivere più uniti sempre fra noi come fratelli e sorelle per soprattutto cercando Dio nella nostra vita. La Pasqua è la festa della speranza della nuova vita. È veramente rinnovare la nostra fede in Gesù Cristo risuscitato, in Gesù che è morto e che vive per noi. Questo dà tanta speranza in un mondo che molte volte sembra scuro, sembra che non ci sia pace e speranza futuro e invece come cristiani della fede sappiamo e crediamo nella vera vita. Ecco, faccio nuove tutte le cose. Questo è il titolo della Via Crucis organizzata dalla Chiesa di Andria per i giovani. Si terrà il prossimo 25 marzo all'Oratorio Salesiano dalle ore 20. Ascoltiamo l'intervista a Don Vito Zinfollino, direttore della Pastorale Giovanile per la Diocesi di Andria. Perché una Via Crucis dedicata ai giovani? Penso che l'esperienza di contemplare la Via Crucis significhi principalmente non fermarsi alla passione di Cristo quanto a leggere la storia d'amore che il Signore ha voluto scrivere attraverso la sua passione. Cioè questa Via Crucis vuole dire ai giovani che c'è un Dio che non ti ha abbandonato, che cammina con te, che ha passione di te. Ecco la Via Crucis, la vorremmo leggere non soltanto con i termini della sofferenza quanto invece con i termini della passione e dell'amore. Quali sono i percorsi difficili, le vie della croce che oggi vivono i giovani? Pur stando insieme, chiaramente mi riferisco adesso alla fascia anche dei giovanissimi, pur stando insieme in realtà ti accorgi che vivono troppo isolati, privati di quelle relazioni autentiche, vere. Forse perché il mondo dei social le ha coinvolti a tal punto per cui i rapporti sono diventati virtuali e questo ha portato il ragazzo a isolarsi di più. L'altro problema è l'indifferenza ai problemi della vita sociale. Quello che preoccupa oggi è anche il fatto che i ragazzi si sentono esclusi sia dalla vita politica sia dalla vita sociale, per cui sembra quasi che queste sono questioni di adulti e qui è importante anche far capire loro che devono essere i protagonisti della storia. Così l'altro problema secondo me molto delicato che oggi tocca il cuore dei giovani è quello che loro non sanno più sentire forte il desiderio di andare oltre i limiti e non sanno fare pace con la fragilità. Il problema è che oggi anche i ragazzi non sanno accettare la fragilità come occasione per ripartire, per cui rimangono ingabbiati nelle loro ferite, nelle loro fragilità senza vedere via d'uscita. Ecco la via Crucis è un modo per dire a loro si parte dalle fragilità per costruire qualcosa di bello. Anche il comune di Canosa di Puglia entra a far parte del cammino di San Guglielmo, protettore dell'Irpinia. È stato infatti firmato il protocollo di intesa che promuove il percorso di fede. Una firma che segna un altro piccolo passo di un cammino di fede e devozione, lungo 250 chilometri. Un protocollo che arricchisce un percorso in nove tappe che attraversa Campania, Basilicata e Puglia nel nome di un giovane pellegrino divenuto santo. È San Guglielmo, fondatore delle abazie di Montevergine e del Goleto, patrono di Irpinia che del nome al cammino di cui ora fa parte anche il comune di Canosa di Puglia nel nordbarese, che diventa così tappa del pellegrinaggio. Punto di partenza è Montevergine, da lì attraverso strade e sentieri si raggiungono i luoghi che hanno segnato la vita di Guglielmo, come l'eremo di Chiusano, la grotta dell'apparizione sulle sponde del lago Laceno e il pozzo sui monti Picentini. Si arriva poi all'abbazia del Goleto per riprendere il cammino in direzione della badia di Santa Maria di Pierno, in Basilicata, e da lì, seguendo lo scorrere del fiume Ofanto fino a Melfi, si raggiungono Canosa e Barletta, città da cui in passato si salpava per la Terra Santa, proprio come fece Guglielmo. Il viaggio è lo stesso compiuto dal santo pellegrino e percorrendolo si fa un'immersione nell'esperienza umana, spirituale e mistica sul senso e significato del vivere e del condividere la fatica del cammino, spiega Don Salvatore Sciannamea, rettore dell'abbazia di Goleto, evidenziando che il cammino ha anche un valore culturale, artistico, antropologico e naturalistico. Il protocollo di intesa concretizza l'impegno che da 12 anni le associazioni del territorio stanno portando avanti per far conoscere la storia e la fede di San Guglielmo. E Canosa di Puglia si prepara a vivere i riti della settimana santa, specie nella processione del sabato con la Vergine Desolata che per la prima volta nella storia è ospitata in un'altra chiesa. Il rito però non cambierà. Vediamo. Noi ti ringraziamo, Signore, per averci... Un unicum nella storia della devozione di Canosa di Puglia nel nord barese per la Madonna Desolata che nel sabato santo attraversa la città col cuore trafitto dal dolore più insopportabile per una madre, la morte del figlio. Per la prima volta nella storia non è nella chiesa legata a lei, quella dedicata ai santi Biagio e Francesco, ma è qui nella parrocchia della Beata Vergine del Carmelo. Un trasferimento momentaneo dovuto ai lavori di ristrutturazione in corso. Impalcature e chiusura però non intaccheranno il rito del sabato santo. Ringraziando la provvidenza, ringraziando anche l'impresa edile, abbiamo la possibilità nella sicurezza di poter iniziare la processione del sabato santo sempre nella piazza antistante della chiesa, praticamente facendo uscire unicamente naturalmente il simulacro della Vergine. La collocazione provvisoria qui della Vergine ha un po' cambiato le abitudini dei fedeli. Il flusso dei devoti è un po' diminuito per tante ragioni, però ecco credo che i luoghi o anche la stessa statua non devono essere cose determinanti, la nostra fede, cioè a prescindere da tutti i luoghi, da tutte queste cose che sono delle sovrastrutture, l'essenziale è quello che poi ci insegna Maria, è quello di fidarci. La Vergine desolata resta un esempio di affidamento a Dio. La raccomandazione è quella di essere devoti figli di Maria e anche se ci sono queste difficoltà, pian piano insieme a lei si possono risolvere tutte queste cose. E ad Andrea invece si è parlato di povertà nel mondo contemporaneo in un incontro formativo organizzato anche dalla Caritas Diocesana. I dettagli nel servizio. Approfondire il tema della povertà nelle sue varie forme, dalla disuguaglianza nell'uso e nello sfruttamento delle risorse alla giusta valorizzazione del lavoro attraverso un'equa retribuzione dei produttori in contesti minori o periferici dell'economia mondiale. E' questo l'obiettivo di Generazioni Attive e il percorso formativo proposto dalla Bottega, del commercio equo e solidale filomondo, insieme alla Caritas Diocesana di Andria e con il coinvolgimento dei giovani del Servizio Civile Universale. Le nuove povertà colpiscono, ci dicono le ricerche, il ceto medio e soprattutto i giovani, infatti molte sono le ricerche sui NIT, cioè chi non lavora e chi non segue nel corso di formazione, perché forse non si parla neanche più del precariato, ma il precariato ancora c'è, e soprattutto i minori. Gli ultimi dati anche in Puglia ci dicono che siamo un milione di poveri, 400.000 povertà assoluta e il 13,4 di questi sono minori. Come porvi rimedio? Io credo che la sfida è soprattutto educativa, quindi deve interrogare anche l'istruzione e la formazione, perché la disuguaglianza sociale parte da fallimenti, penso, dei processi di socializzazione e poi dobbiamo anche ragionare sull'esclusione rispetto anche a una dimensione di lavoro e di reddito. Ogni cittadino è responsabile, ogni cittadino può contribuire a contrastare le povertà? Certo, non dobbiamo pensare alla povertà come qualcosa di staccato dalla nostra vita quotidiana. La comunità è unica, all'interno di questa comunità ci possono essere anche dei processi di esclusione e è per questo che è compito di tutti quanti interessarsi perché nessuno rimanga indietro. Perché un percorso formativo di questo tipo? Un percorso di formazione che si rivolge a tutte le generazioni, l'abbiamo voluto intitolare appunto generazioni attive perché si rivolge non soltanto a tutte le età, ma generazione rimanda anche alla creazione di qualcosa di nuovo, di un cambiamento e questo è compito di tutte le generazioni in dialogo tra di loro. Era l'ultimo servizio, si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Teledeon. Grazie per aver guardato il nostro canale!